Saluto tutti i miei amici notturni, ciao! Ciao! E quando mi rincava un pão, andiamo a dar lei dalla schiena, che è esatto alla schiena. Ti ho detto che mi arriva dalla schiena, eh? Tu sei il mio te! No, io sono sano! No. perchè sono 64 anni e perchè sono sano la testa 64 anni Basilica di Monteviglio via Volta località Pignoletto la prossima discesa la vorrei dedicare all'e-bike center di Modena nella persona di Urbani Giorgio e il meccanico Cristian vi ringrazio per la loro serietà e per il mezzo che mi hanno fornito ringrazio vivamente anche la Fanti e vi dedico questa bella discesa denominata Africa 9 0 0 0 0 0 0 0 bellissima ancora un gradino giù nella buca senza paura e via ancora gradini 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 gradino più grande ultimo gradino eccolo qui giù giù alle ottima bici ma ci buttiamo giù ancora giù grazie 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 scalini li evitiamo ora passaggio tosto e anche bagnato e tra 20 metri siamo arrivati ottimo ok ok Grazie.